La vocazione di San Mateo di Caravaggio simboleggia la chiamata personale di Dio che sorprende l'uomo quando meno l'attende, magari nel peccato. Il luogo è il corpo di guardia, un ambiente angusto, senza sfondo prospettico, debolmente illuminato da una finestra. I giocatori portano abiti moderni, a dimostrazione che il fatto descritto non è una vecchia storia, bensì un evento che potrebbe accadere in qualsiasi istante. Con Cristo e San Pietro entra un improvviso raggio di luce che ravviva l'ambiente. Tutti si voltano sorpresi, eccetto i due avari, all'estrema sinistra, intenti a contare i soldi. La luce investe le figure, accendendo nel buio le stoffe, le piume, i volti e creando un percorso di lettura in cui giocano, un'enorme importanza, le espressioni. Non c'è sviluppo di azione, tutto accade in quell'istante. San Pietro ripete il gesto di Cristo e il gabegliere Matteo, il prescelto, risponde sorpreso alla chiamata. La prima versione della cena in Emmaus mostra un ambiente illuminato da una diffusa luce proveniente da sinistra che evidenzia anche una parte del muro di fondo su cui si staglia l'ombra del Cristo. La figura del Messia è rappresentata con una purezza classica in contrasto con il naturalismo di quanti lo attorniano. Il ripiano della tavola è occupato da una bella natura morta su cui culmina una cesta di frutta. Nella seconda versione della cena in Emmaus lo scorcio di luce è molto più tagliente e più basso e sparisce del tutto lo sfondo. La figura del Cristo non è più statuaria, bensì sofferta quanto quella dei commensali. Anche la tavola è diventata essenziale, vista con una prospettiva molto più scorciata. Come le altre opere di Caravaggio, anche Il martirio di San Pietro non ha un vero sfondo, ma è definito esclusivamente dalla luce. L'effetto di brutalità è accentuato dal fatto che i volti dei carnefici sono invisibili. La ferocia impersonale del martirio è pure accresciuta dalla fredda meccanicità con cui si muovono i carnefici, simili a ingranaggi di una macchina di morte. Solo la dolorosa torsione del corpo del santo, in un gesto di estrema ribellione, sembra opporsi a questo ineluttabile congegno. Guido Reni, pur partendo dal naturalismo di Caravaggio, ne ricompone le asperità. L'immagine è costruita su un forte verticalismo, che deriva dall'impostazione su una forma triangolare. Il volto dei persecutori è ben visibile e il gesto del santo è diventato una più consono invocazione, mentre lo sfondo è occupato da un cielo seppur cupo. Rimane di Caravaggio l'impressionante e fredda macchina di morte della croce.